rosso bigeno superiore e falerio pecorino ecco qua ho estrapolato dalla vasta produzione di cantina terra faceto queste due etichette un rosso bigeno superiore doc rusus annata 2021 e un falerio pecorino doc annata 2023 vasta produzione poiché l'azienda dai circa 30 ettari di vigneto ricava una quindicina di etichette prevalentemente uve locali ma anche uve internazionali terra faceto ex castello faceto perché fino al 2013 se non vado errato si chiamava castello faceto poi l'azienda ha dovuto adeguarsi alla normativa che non consentiva l'utilizzo del termine castello a chi questo tipo di manufatto non possedesse quindi terra faceto però ecco cambia come si vuol dire no cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non è cambiato voglio dire i valori qualitativi sono rimasti di un certo ritievo anzi con il ricambio generazionale che nel frattempo avvenuto si è passati dal fondatore dante di ruscio negli anni 50 poi al figlio claudio adesso ci stanno i figli di claudio che hanno preso i redini dell'azienda e hanno inoculato linfa nuova energie nuove ovviamente non solo per ciò che concerne marketing e comunicazione ma anche per ciò che concerne le soluzioni enologiche ecco questi vigneti di terra faceto stanno sulla linea collinare proprio a ridosso direi a strabionbo sulla linea costiera triatica no se noi facciamo visita a questi vigneti possiamo godere un spettacolo naturale straordinario poiché di fronte a noi troviamo il mare sconfinato proprio a perdita d'occhio ecco dunque questi vigneti respirano salsedine praticamente infatti una delle etichette aziendali si chiamano proprio così salsedine uno fila becorino di ocg però io quello già l'ho assaggiato è uno dei vini di punta è questo qui quello già l'ho assaggiato in altre circostanze adesso mi redigo ad altro grazie a tutti